Da Vallastaro alla Valle Biancoia, dal Monte Corno al Monte Mazze, è uno dei versanti dell'altopiano dei sette comuni che sta soffrendo a causa della presenza del lupo. Sempre più capi sbranati, con il predatore sempre più vicino alle case. Come testimoni al viaggio che abbiamo fatto con la nostra telecamera, sentendo tutta la preoccupazione, tutta la rabbia, tutto il senso di impotenza di chi si trova a gestire una malga, dovendo pensare a proteggere i capi di bestiame. E le immagini che state vedendo sono quelle che vedono a risveglio tanti malghesi come Milè di Cortese, che gestisce Malga Verde in Vallastaro, in territorio comunale di Lusiana Conco, che si è trovata praticamente davanti casa a quattro lupi. Siamo preoccupati, è una situazione ormai insostenibile per tutte le malghe, siamo in alpeggio per quattro mesi e dobbiamo preoccuparci, oltre al fatto di gestire una struttura, oltre al fatto di mantenere i pascoli e tutto, anche di questa cosa bisogna fare qualcosa, altrimenti qua le malghe vengono sicuramente abbandonate. Questo è un rischio maggiore, la montagna che venga totalmente svuotata? Secondo me non è tanto un rischio così lontano, è abbastanza vicino, prossimo, quindi va fatto un qualcosa. Voi state facendo di tutto per poter proteggere i vostri animali? Quello che si può fare, stiamo facendo, perché tanti ci dicono portati lì dentro, la malga non è un'azienda agricola, è una struttura che è fatta per essere malga. Oltre agli animali e alle bestie, la presenza del lupo crea problemi anche per il turismo? Questo sicuramente, noi abbiamo tante persone che vengono qua come clienti e che ci hanno detto che non si fidano proprio ad andare a camminare, soprattutto chi ha il cane. Quindi magari le persone o il bambino o il cane tendono ad evitare questa cosa, quindi sicuramente una ripercussione anche a livello turistico, sicuramente. Una situazione davvero pesante per chi ha scelto di vivere e lavorare sulle nostre montagne e noi nei prossimi giorni andremo a proporvi le voci di altri malghesi in forte difficoltà che chiedono un aiuto concreto alle istituzioni. Se lei potesse lanciare un messaggio, cosa chiederebbe? Protezione, perché siamo qua a fare un lavoro per tutti, quindi capisco anche le persone che dicono no all'abbattimento. Ok, va bene, però anche noi abbiamo predazioni su capi nostri a cui teniamo, quindi voglio dire ci deve essere un giusto equilibrio. Grazie. Grazie. Grazie.